Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo unboxing un po' inaspettato infatti come tutti ormai avrete capito GameStop ha rotto il day one facendo uscire questa collector prima del tempo e quindi mi sono precipitato anch'io a prenderla come potete vedere per Playstation 3 Assassin's Creed Black Flag Buchanier Edition solo su Playstation 3 include 60 minuti di gameplay esclusivo quindi qua da questa parte abbiamo il logo qui sfida il tuo destino, il nostro personaggio, alcune scene del gioco e qui abbiamo la collector box, ovviamente il videogioco, la statuetta di Edward Kenway la colonna sonora su cd finalmente separata, due litografie e l'artbook e qui abbiamo riportato ancora la stessa cosa adesso sto usando il telefono, con una mano sola andiamo a togliere il sovra preservativo come feci già, adesso qua è successo un casino della madonna si è già aperto perché io scemo ho tolto sto facendo un bordello ho già tolto il nastro che e qui andiamo a vedere un po' cosa contiene allora qui abbiamo l'artbook c'ho sempre i cavi per terra perché sto ancora sistemando tutto Assassin's Creed Black Flag ovviamente non lo farò sono veramente ben fatto carta fotografica bello bello è veramente ben fatto ok andiamo un po' più avanti per non far vedere proprio tutto tutto ricorda un po' un certo Pirati dei Caraibi questo nuovo capitolo di Assassin's Creed infatti è molto concentrato sulle battaglie navali poi qui abbiamo il gioco da non vendersi separatamente alla Collector qua più o meno è riportato lo stesso che è riportato nel retro copertina qui abbiamo la colonna sonora separata che io adoro la colonna sonora separata e qui abbiamo la busta con su il logo dei Assassin's Creed versione Pirati dei Caraibi diciamo chiamiamoli così dai adesso io sto cercando di togliere sta Roma cazzo veramente figa veramente bella se vi chiedete perché non sto usando la GoPro è perché è scarica e sta caricando come potete vedere sono un fan di Assassin's Creed ma l'avete già penso capito una piccola panoramica della mia Tana che poi prossimamente ci sarà un video e qui abbiamo la statuetta che però non riesco a togliere quindi ora la tolgo e poi ritorno eccoci qua sono tornato eccoci qua e ho tolto la la statuetta che porca puttana che porca puttana si è fatta bene ultimamente sono un po' molto fortunato con le action figure perché anche quella di Batman è veramente veramente fichissima ora so di gente che ha smadonnato per montarla però io non la monterò per il semplice fatto che per il semplice fatto che devo acquistare una vetrinetta per poter mettere le cose a molte persone mi dicevano e ma nei video con la GoPro si vede solo l'Xbox tu non ce l'hai la Playstation è lì vicino non fateci caso al bordello che ho sul tavolo ma ormai sono in fase di sistemaggio bene questo unboxing veloce veloce finisce qui vi aspetto ai gameplay che penso che farò già domani sempre se il mal di testa smette di rompermi i maroni e il raffreddore smette di rompermi i maroni per il cambio stagione ciao a tutti da GeneticDNA grazie a tutti grazie a tutti